Mi chiamo Filippo Lamentia, sono un osto e cuoco, ma non uno scezzo. Ci troviamo a Peschiera del Garda. Andremo a realizzare un piatto utilizzando appunto il mini peamer brown. C'è la mela, lo yogurt, qualche preparazione di salsa o di creme. Il miele. Il miele lo consumiamo parecchio in casa. Grazie.